I cavalli sono agli ordini dello starter. Partiti! Prova subito Exile con Federico Bossa con all'esterno Magica Whipper che ha una meglio quindi Magica Whipper in testa con all'interno Exile seguita da Irish Aplose in coda Rosa Coletti. Sulla prima piegata prende il comando con forza Andrea Dejas con Magica Whipper con all'esterno Federico Bossa Exile seguono Aldo Carboni in sella Irish Aplose e chiude il gruppo Antonio Fresu con Rosa Coletti che prova ad avanzare all'esterno. Federico Bossa con Exile preme al fianco di Magica Whipper e passa il comando e all'esterno Rosa Coletti e Antonio Fresu si profilano per attaccarlo mentre Irish Aplose perde contatto dai primi tre. Ancora Exile prova a passare su Magica Whipper che prova a tenere botta all'interno e segue Rosa Coletti che tiene a bada il gruppo. Quindi Exile in vantaggio con Rosa Coletti all'esterno e Magica Whipper calante nell'ultima fase. Prova a giocare d'anticipo Federico Bossa con Exile e Rosa Coletti all'esterno prova ad attaccare. Quindi il match del totalizzatore con Rosa Coletti a 1.50 e Exile a 2.14 si concretizza. Exile allunga, Rosa Coletti scatta al suo esterno, passa definitivamente Rosa Coletti con Antonio Fresu ed è tutto facile per Rosa Coletti che batte Exile al terzo posto Magica Whipper mentre giunge staccata Irish Aplose. Quindi numeri ufficiosi per questa corsa, numero 1 di Rosa Coletti, numero 3 di Exile. 1.3, ordine d'arrivo ufficioso per l'ultima di Varese. Ci rivediamo per la riunione invernale. Buona serata a tutti. Grazie. Grazie.